In Assemblea Capitolina abbiamo approvato una delibera di indirizzo per far sì che spazi ed edifici diventino accessibili, adattabili e visitabili anche dalle persone con difficoltà motori o con limitazioni sensoriali. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Urbanistica Donatella Iorio che ha aggiunto, con interventi mirati e concreti vogliamo incidere sia sull'edilizia residenziale pubblica che su quella privata con destinazioni commerciali, ricettive, culturali, sportive e per lo spettacolo, aperta al pubblico, di nuova costruzione o sottoposte a manutenzione straordinaria. Con questa delibera forniamo gli indirizzi in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche che dovranno essere recepite nel nuovo regolamento edilizio, quello vigente risale al 1934 al quale gli uffici competenti stanno lavorando. Inoltre abbiamo anche approvato un ordine del giorno collegato per chiedere l'esenzione del pagamento del canone per i privati che si trovino nella necessità di occupare suolo pubblico per garantire l'accessibilità. Quello che vorremmo è che tra i casi di gratuità fossero introdotte le rampe realizzate con questi fini, ha concluso Iorio.